La Querel Partenio Lombardi e l'attualmente misterioso identikit del nuovo socio di maggioranza non irpino che dovrebbe affiancare Walter Taccone, i nodi da districare, il calciomercato a restituire le prime certezze in vista della nuova stagione. L'Avellino è diviso a metà, ieri sera il club bianco-verde ha ufficialmente annunciato il primo rinforzo della campagna acquisti 2017-2018. Si tratta del classe 1981 Simone Rizzato che, dopo il termine del suo vincolo con il Trapani, ha sottoscritto un contratto annuale con la società irpina. L'esperto terzino sinistro, fortemente voluto dal tecnico Walter Alfredo Novellino, che ne aveva caldeggiato l'ingaggio già lo scorso gennaio e che lo ha avuto alle proprie dipendenze ai tempi della regina, dà ufficialmente il via alla costruzione della nuova rosa. Sempre per la difesa piacciono quattro centrali, Jander, Coppolaro dell'Udinese, Marchizze e Capradossi della Roma, più l'over Blanchard, rientrato al Carpi dopo l'apparentesi a titolo temporaneo al Brescia. Per la porta c'è Uicani, in cima alla lista dei desideri del tecnico di Montemarano, ma nelle ultime ore si inseguono i rumors di un interesse per Rosati del Perugia. Sempre più vicino intanto un altro calciatore in uscita dal Pisa, il centrocampista di Tacchio, per lui pronto un triennale, così come per l'attaccante Donna Rumma della Salernitana, per arrivare al quale però c'è da cedere prima Mokulu a Lentella.